Il Mal di Torino nasce dal libro di Fabrizio Vespa, dalle suggestioni del libro e dall'idea di andare in giro per la città, ricercare i luoghi e le situazioni che ispirano il Mal di Torino, che hanno ispirato Fabrizio nello scrivere Il Mal di Torino. Abbiamo fatto questo tour legato al libro e siamo finiti non ai Murazzi come ci trattavamo, ma visto appunto le condizioni dell'atmosfera, che siamo di fronte alle inferriate di Mastroianni al Teatro Regio. Durante le tappe ci sono stati vari ospiti, abbiamo finito con i Miriam, ma nel mezzo c'è stato Gianluca Conte, mezza femmina, davanti al palso del lavoro, Matteone Green sotto il corticato della regione e Gennaro Succioli di fronte alla chiesa di San Domenico con le sue archioricette, che ha regalato una ricetta. Gli attivano dei Bette Grazie a tutti